Rocco Perla, i complimenti vanno a Mayul, a Naslund, a Marcello Borghi ma anche e soprattutto a te per quella parata clamorosa a 4 secondi dalla fine Diciamo che mi sono rifatto per il terzo gol che ho preso e niente Ecco, sul terzo gol hai ricoperto, non l'hai visto partire bene? Sì, non l'ho ben visto partire il tiro, ho tirato bene, diciamo, dalle gambe di Bertz, per Angle deve parare ogni volta, ti da dire Al netto di questo comunque serviva una reazione dal punto di vista qualitativo, caratteriale la reazione c'è stata, è stata una vittoria importante quella di stasera Sì, è sicuramente una vittoria importante, c'è sicuramente a migliorare un po' in tutte le parti ma comunque è una vittoria che dà morale, fiducia e tutto quanto